Proviamo con Leo Lobianco. Leo, Leo, allora, una grandissima festa, ovviamente bagnata, complimenti, di nuovo sul tetto dell'Europa. Sì, era difficilissimo riconfermarci e credo che oggi abbiamo giocato davvero una grande gara. Eravamo tesissime, però poi abbiamo buttato fuori tutto in campo, abbiamo fatto veramente una bella partita, quindi sono felicissima. Avete eguagliato l'impresa di due anni fa, tutte vittorie e solo due set concessi all'avversario. Sì, un giro di buon auspicio, insomma. Sì, ma alla fine un anno come fa dell'anno scorso può fare male e può fare bene, perché alla fine abbiamo reagito e quest'anno abbiamo lavorato tanto e questo ci ripaga del lavoro. Stasera forse è più facile del previsto. No, non è, sembra facile, sembra tutto facile da fuori, però non lo è. Credo che siamo riusciti davvero a mettere in difficoltà quest'Olanda che si è lasciata giocare e poteva darci molto molto fastidio. Grazie, grazie e complimenti.